Avere contezza del patrimonio comunale e soprattutto accertare la regolarità di affitto di enti che si servono di strutture pubbliche cittadine è il monito del consigliere Massimiliano Di Matteo all'indomani della task force avviata dal secondo settore per il controllo sugli immobili comunali e i crediti che l'amministrazione dovrebbe riscuotere da privati cittadini morosi. Noi siamo contenti di questa iniziativa che come sempre arriva in ritardo e arriva, secondo il nostro modesto parere, dietro sollecitazioni anche di altre autorità. Però ben venga che si comincia a fare un po' di chiarezza e si dà trasparenza in queste situazioni, accanto a questo abbiamo chiesto in consiglio comunale che su nostra indicazione ci sono enti e altre pubbliche amministrazioni che occupano immobili, che fanno parte del patrimonio dell'ente a cui bisogna comunque dare un regolare controllo. Siamo venuti a conoscenza di situazioni addirittura paradossali e quindi in un principio di trasparenza e di legalità e soprattutto di imparzialità nell'andamento della pubblica amministrazione è necessario che si avvii anche una cosiddetta task force, come è stata indicata dai giornali, nei confronti di queste pubbliche amministrazioni. Guardate, noi da una semplice richiesta siamo venuti a sapere cose addirittura che forse neanche l'ufficio sapeva. A finire il mirino del consigliere dunque, che già nel corso dei passati consigli comunali aveva interrogato l'ufficio patrimonio a riguardo soprattutto il commissariato di pubblica sicurezza di Viale Marconi che dal 2009 prevede un canone di locazione di quasi 53 mila euro annui accanto a questo anche la sala brengola concesse incomodato modale al conservatorio di Salerno cioè gratuitamente con la garanzia di servizi offerti alla comunità o ancora l'ufficio postale della frazione di Passiano che con le dovute conversioni da lire in euro dovrebbe pagare dal 1970 soli 99 euro al mese. C'è poi l'immobile di Biatenolfi in cui opera il piano di zona, quello dell'Aslo sulla stessa strada insomma diverse le situazioni da accertare per le quali Di Matteo ha chiesto in particolar modo di adeguare i canoni. Se da un lato nei confronti di chi occupa gli alloggi popolari il canone irrisorio tra virgolette è dovuto a situazioni di degenza a situazioni di difficoltà economiche dall'altra parte in queste circostanze il canone va rivalutato e va aggiornato perché si tratta di società anche private in alcuni casi che svolgono però servizi al pubblico che hanno le possibilità economiche per versare i soldi per gli spazi che occupano. Grazie. 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 Grazie.